Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Franklond3 Siamo qui Provare la modalità party Non l'ho mai provata la modalità party E raga, quale momento migliore sei in un video? Ma, è ma raga, cos'è? Come è dio raga? No, raga, no Mamma mia raga Taglie 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 ok raga malissimo raga male ecco ho perso qualcosa no raga devo scegliere bene le carte questa qui non può servire raga devo scegliere qualcuno di forte vediamo un po devo trovare il background wow raga non lo userò un botte e qual è il momento migliore per usare le frecce un po' di più un po' di più ok ok non lo userò ma non lo userò non lo userò ma non lo userò top sta sussurendo oh mio dio raga oh mio dio oh mio dio porca le frecce non vanno neanche bene raga io non so più che fare si drago ottima partita la cosa bella del drago che non si può colpire ovviamente le torrette lo colpiscono però tipo le normali che ti posso dire raga tipo valkyria e gli altri non lo possono colpire questa è la figata del drago non si può colpire ovviamente le torrette possono aspettiamo qua sotto il draghetto raga da gretto da gretto dai cucciolo di drago vai la scarica la scarica va colpire alla città la città è è la città Fight Ora quasi fa critica E non piglia la linea raga Come infame con questo gioco E come infame pure la linea Oh my god raga Oh my god è vero Oh my god Oh my god Oh my god Questa raga è vintissima Sì finalmente Ok Qualche premio Arriviamo a 1050 Vai Allora qui Chi mi dava Il peg Due leggendari Me ne dà pure Ultima Ultimissima Raga partiamo Veramente benissimo Volevo dire malissimo Sorry Raga la Siria Devasta un botto Volevo dire malissimo 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.